Se viene il trailer della sexta temporada... Un trailer? Preparados? Tres, dos, uno, boom! Ho sempre voluto giustizia. Ma nessuno me l'ha data. A volte basta solo un po' di attenzione per notare che qualcuno sta chiedendo aiuto. L'ultima volta che mi è piaciuto qualcuno come mi piace tu... ho fatto un casino. Non riesco a credere alle cose che ho. Riesco solo a pensare al momento in cui tutto svanisce. Quando ti comporti bene, io miglioro. Non riesco più a fidarmi di nessuno. Nico, non ti vedevamo così giù da prima della transizione. Io ero convinto che avremmo lottato per noi due. Io sento che è tutta colpa tua, Patrick. Adesso basta, ragazze. Mi è venuta in mente una cosa che potremmo fare. Però forse è un po' sporco. La vendetta non è giustizia, Isadora. E la giustizia non è giusta. Ti ammazza. Ho paura. Ma smettere di respirare non è un'azione. Le ferite vanno curate. Perché se no, non puoi vivere in pace.